A rischio Schengen senza soluzioni europee, così a Berlino, Conte, la Merkel e i sui migranti collaboreremo con l'Italia. Faremo un censimento dei Rom, quelli italiani purtroppo ce li dobbiamo tenere, questa frase di Salvini apre nuove polemiche, il Partito Democratico agghiacciante. Vertenza il valministero dello sviluppo economico, ai microfoni di Rai News 24, felice ottimista sull'incontro di domani, sui riders le parti si sono mostrate disponibili. Per l'attestata al giornalista di Nemo, condannato a 6 anni di carcere, Roberto Spada, per lui anche l'aggravante mafiosa. Sui 2000 bambini separati dai padri al confine USA-Messico interviene anche l'ONU, bambini non vanno traumatizzati con una separazione. Un'indagine della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di 120 persone per una truffa da mezzo milione di euro, hanno intascato i contributi destinati ai terremotati. Grazie a tutti.